Nico lo sai perchè ti ho portato qua oggi? No perchè? No perchè marci sempre in mezzo ecco perchè Ti volevo andarmene C'è pure lo qua Tutti E' una festa no? Cos'è questa roba? Lui si chiama stivale Va beh stivale te lo puoi portare in casa tua Perchè oggi dico dobbiamo fare i E lascio andare è libero Va beh dobbiamo andare a fare i bunker Nico hai 10 minuti a partire da ora muoviti veloce Dovemmo fare i bunker dentro casa nostra Si si devi fare un bunker perchè questa casa è troppo piccola Cosa sta arrivando perchè? Che catastrofe c'è? Niente è solo che voglio starti lontane quindi mi chiedo in un bunker Va beh io comincio a fare eh guarda vado qui Sei un po cattivo Scusa ecco ovviamente io dove devo scavare dove c'è dell'acqua Ti sta bene questo perchè mi tratti male non va bene Io non ti tratto male io ti tratto bene Ma vuoi fare un bunker solo per starmi lontano Vabbè ma senti scusa ti puoi fare un bunker per starti lontano? L'ho fatto già per loco scusami eh Per stargli lontano Eh vabbè ovvio mi sembra ovvio Vabbè però loco puzza quindi ci sta Vabbè loco puzza Vabbè loco quanto ci sei lavato l'ultima volta? Mi sa che hai detto una settimana fa l'altra volta Vabbè ma anche io ho sentito che aveva detto tipo una roba così eh Inventano le cose queste non ascoltate Non riesco a scrivere 7 e ieri sono un attimo in difficoltà Datemi un secondo eh Ah io non uso board edit Quelle cose sono solo per chi è scarso Vedremo Nico vedremo che bunker farai allora Bellissimo ovvio Così così Non posso un po' infastidirti? O ti arrabbi? Cioè fai pure quello che vuoi guarda io penso che Quindi posso infastidirti? Sì penso che prenderò un po' di spazio da questa parte Ok Ok perfetto Ud slash chill air 10 Nico? Dimmi? No niente ho sbagliato a fare la cosa vabbè Ah sì sì Ma hai sentito che fanno tipo utini? Udini 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 Non lo so sai Nico Anch'io c'ho un po' questo dilemma adesso Con un po' di Udini che stanno piangendo e morendo Eh poverini mi dispiace per loro Dopo te ne metto altri se gli servono Guarda mi fai un piacere se tu lo fai Di voi No Però allora facciamo così Forse così mi sembra un po' troppo fatta male Cioè nel senso Ma non è vero ci sono gli Udini che sistemano tutto Ok gli Udini ogni tanto cadono Nico di che blocchi fai tu? Perché ce ne sono veramente troppi di blocchi Allora io uso come si chiama? Il Quicksilver si chiama Che è molto carino secondo me Allora te lo copio Lo faccio uguale bravo Dai no uguale no però Eh come no uguale? Vabbè un pochino Uguale no Cambialo Dai ma è proprio bello È fatto proprio per un... Eh lo so Lo scelto io cosa credi? Vabbè Vabbè senti facciamo le pareti e poi riguardiamo basta Cosa vuoi riguardare? Cosa tu vuoi riguardare? Faccio di Bedrock Di Bedrock? Sì Tipo antiestetico come non si sa che cosa Ah mio Dio va bene cambio blocco Bravo Io vorrei chiederti una cosa per favore I tuoi utini non è che possono morire tipo uno dietro l'altro per favore Io ti volevo chiedere come stesse le mie utini e tu me li insulti in questo modo Eh cos'è chi vuoi? Io ti volevo chiedere come stesse le mie utini No non te lo dico Puoi ucciderli e basta Vabbè non te ne ho fatto degli altri No allora hanno detto che non vogliono stare con me quindi li puoi uccidere per favore Vabbè io volevo entrare in casa tua però mi sa che hai sbagliato qualche cosa Come ho sbagliato? Cosa ho sbagliato? Eh no perchè l'ingresso non è molto accogliente Ti consiglio di controllarlo Cos'ha di non accogliente scusami? Penso tu abbia sbagliato a fare qualcosa Vabbè cosa vuoi chiesti dai scava un po' in ci trovami Nooo penso tu abbia sbagliato Eeeh fai finire di niente a posto va bene lo stesso vieni di qua guarda c'è qual'entrata No 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 guardo dopo tranquillo No ma se vuoi ci vuoi c'è qual'entrata Vabbè comunque dai è come se io avessi una testa un po' Beh è una bella testa Non vorrei mai averla una testa così però va bene Si allora il bunker facciamo che l'entrata la faccio da dietro eh va bene così Io non sopporto più questi utini però adesso devo abbassare il vulgo Allora basta Music and sound zero Ok dove sono le creature amiche? Oh ce l'ho fatta non parlo più finalmente Ok allora Adesso inizio a fare io Vai si ogni tanto Non sei uguale Grazie loco fallo tu che così abbiamo Ecco si esatto grazie loco Sei utile Allora Nico io lo faccio Io faccio un bunker tondo Ah è classico Eh è un bunker tondo di solito no? Certo Tutti lo sanno Allora però facciamo così No devo fare una cosa Allora Ok Perfetto Perché sono morto? Eh ho usato una bacchetta Nico ho sbagliato scusami Ma che vuoi Dammi? Ma stammi lottando Eh scusa ho usato la bacchetta sbagliata Che colpa mia Ma c'è il mio cadavere in casa È bello scusami Una cosa in più no? Fammi vedere scusami i tipi Non mi ha disfunato Non mi ha disfunato Fammi vedere No Ma quanta roba bella Nico Grazie Andiamo aspetta Non provare a tutti prima Non farlo per favore No non ti uccidi sono una brava persona Levati vattene Ma guarda come Sono tornato a casa mia cosa vuoi? Oh mamma mia Oh come sei difficile Ogni tanto sei proprio difficile eh Allora mi piace il sopra mi piace Nico manca poco di tempo Doveva muoverci però a fare le cose eh Sto riattaccando il video Mentre Marci si lamenta Perché è venuta Io mi sto lamentando Mi è venuta un'idea molto Non voglio essere ascoltato Molto figa Perché volevo fare una cosa molto bella Cos'è la Easy Disturbide TNT? Posso provarla? Ma io la proverai su di te Nico Perché comunque Guarda sto facendo un reattore nucleare Il mio bunker è diventato un reattore nucleare È molto bello però ti devo dire sai? Bravo Perché qua adesso io metto tipo il letto Allora bed Però che bed mettiamo? Ma c'è anche l'utini di bed Nico C'è l'utini di bed Che bellino Un pochino sì Ogni tanto mi sento No lascio stare Ma Barty cos'hai dietro scusami? Scriveteci da questo punto Potrei scrivere il letto nei commenti grazie Ragazzi se non scrivete il letto nei commenti Marci piange Però dei dei Io poi lo lascio letto Ma Era una battuta? No no Fa ridere Ah ok No sembrava una battuta scusami Allora Nico potrei avere tipo meno gente qua Ma che bellini sono tipo C'hanno tipo la faccia da vinda Si chiamo anche Marco Ma si vai Chiama Marco Si si Chiama anche Marco vai così A me piace tutta tutta Vai tutti qua veloci Tutta una persona a caso Chiamo anche Loco c'è? Si ci sono ci sono Ciao raga come sta tutto bene Ciao Benvenuto Benvenuto Ciao Ciao Poverino mi dispiace Ciao anche a te comunque nel caso Colpa di Marci Allora Nico io ho quasi finito eh Il tempo Io non ho fatto niente E alle cose E chissà come mai E mi distraevano le persone Colpa tua La la Crasciato? No No Non lo so Belle eh Ti piacciono i cetacei Vero? I cetacei? E son balene Sono Allora Non sta molto bene Però son balene Belle queste all'interno Fammi rubare Ok perfetto Posso andare nel mio bunker Ok Come le killo sti cosi? Eh tra un po' muoiono da solito Non ti preoccupare Give Nico Strength No dai Nico Poveri balene Signori del WWF Mi dissocio Allora Burnais Come? Nico fa la caccia alle balene? Nooo Mi dissocio Povero Nico Che poi lo arrestano veramente Domani solo video di Apex Legends Per favore Sì Nico son più di utini Non li sopporto più Ti prego Ti prego Portali via da qua Non riesco a mettere le fornaci che voglio io Andate via vi prego Oh Mamma mia sto piangendo Allora Ma cosa lo stai redando tu che non c'è niente scusami Come non c'è niente? Io non trovo niente Oh Meno male allora Posto vinto io Allora qui c'è un lavandino Vuoi un pomodoro? Nico scrivi kitchen Non c'è il kitchen Mannaggia a te Mannaggia Guardate Allora Dico non sa l'inglese Questo non so se è pure la moto Ciao moto Ciao ciao Cosa fa questo? E' da me qua E' da te Meno male Nico comunque ci sono un botto di leve fighe per i Booker Ma che belle Quanto casato Scusa E' ma Perché è la prima volta che faccio un pacchetto di modpack Con l'altro già Vabbè eh Quando vuoi Marci tranquillo non ti preoccupi Vuoi entrare anche tu a giocare Ti passano in stanza se vuoi eh No Marci Lui mi sa che è impugnato Mi sa che in questo momento sta In questo momento sta pensando a che cosa deve fare per rancare Allora Io ci sono quasi eh Nico mi manca veramente poco Io sono completamente in alto mare Ma proprio te lo dico chiaramente Ma metti un po' di leve E' un Booker Nico devi mettere delle leve Cosa a caso I Booker hanno le leve lo sanno tutti E per aprire le porte come fai? Non si aprono stanno chiusi Vabbè io metto delle leve Probabilmente miglioreranno tutto qua E vincerò io perché ho messo delle leve Allora Si metto tanti Udini Udini Penso che vince Magari tipo non so Allora puoi vincere per gli Udini Però adesso io farò una cosa Se mi chiedi tutti gli Udini Io ti giuro No Gli Udini non te li killo Stai tranquillo Adesso faccio un portale Un portale grosso Un bel portale molto grosso Via da qui Udini Non vi sopporto più Ok La mia stanza non era un centro Nemmeno la mia Anzi la mia si però in realtà Molto bene Ah no la mia no Ma devo dire La mia per niente Non sopporto più gli Udini Non sopporto più gli Udini Devo eliminare dalla faccia della terra Ed eliminati dappertutto Perché sei diventato Iginio? Iginio? No sto impazzendo È diverso Allora Così E vabbè ci vediamo quando abbiamo finito Vero Nico? Rene Rene Allora Nico Il tempo è praticamente finito Io non te ne do più di tempo ancora È perché ho fatto la zona Guarda un secondo se vuoi No di più Uno fine Ok ho fatto la zona gioco Allora questa è la piscina degli Udini Così non danno fastidio a me Dopo capirai Nico Perché è molto carina E bisogna solo fare Ma gli hai sotterrati vivi Lo so È stato terribile No no sono ancora vivi Non ti preoccupare Eh appunto sotterrati vivi No sono ancora vivi gli Udini Appunto gli hai sotterrati vivi Sono ancora Udini vivi ok Però devo creare una cosa Devo creare l'ultima cosa Poi possiamo vedere chi avrà fatto la costruzione Boh basta Io ho finito Signore Udini mi dispiace Ma non vi siete tolti E io Cioè fate così Mi uccisi No non è vero Non è vero Dai Nico Allora partiamo subito da me Vieni di qua che così ti faccio vedere il mio bellissimo bunker Allora qua ci sono Sta piovendo È molto triste questa cosa Eh beh ovvio Perché sono morti un po' di Udini Io sto E non si può entrare però nel tuo bunker Ma come no Si che puoi entrare Eh non c'è l'ingresso È barricato Da dove si entra Nico Da qua Nico da Ti penso io Aspetta Ti aiuto Ti aiuto Facciamo l'ingresso insieme Non c'è niente di male insomma Ahahahahah Bene Ecco qua l'ingresso Vieni Ciao Ora si scende da qua Non puoi più salire una volta che scendi eh Ti spacchi le gambe una volta che scendi Ah qui ci sono le bottiglie d'acqua no Perché aiutano a idratarsi Ok ok Benvenuto nel mio bunker sferico Trappola per gli Udini amici tuoi Sì Sì quelli di Bedrock non muoiono Ma quello sì Me ne è morto uno davanti agli occhi Eh ma quelli di Bedrock non muoiono Hai ucciso il mio povero Udini Allora Nico Comunque vabbè dai per 10 minuti ci sta Guarda qua quanti Udini ci sono Boh sì a parte che è una sfida di World Elite basta Sì dai ci sta Senti una sfida di World Elite che intanto è stata arredata Perché tu hai fatto di meglio vero? Vieni a vedere Ti mostro Allora Vieni vuoi un po' di mosche dentro il tuo bunker Così che facciano un po' di Oh mamma quanto sono grosse Esatto Era proprio quello che voleva Andiamo Nico a vedere il tuo bunker Perché voglio vedere come hai fatto Allora ti mostro ti mostro Guarda Si è entrata qua intanto un ingresso e mi aiuta Vediamo se Come si chiama? Warped Warped Moschito probabilmente Eh non volevi vedere il mio ingresso Sì fammi vedere il tuo Tranquillo Il tuo ingresso Vabbè bello che bell'ingresso Guarda che bell'ingresso Qui tu entri e hai due scelte Mangiare o dormire Che è quello che praticamente vogliono far tutti nella vita Vabbè mi sembra Qui puoi mangiare C'hai tantissimo cibo C'hai l'acqua c'hai la tequila Scusami però hai costruito un po' troppo per dieci minuti Nico Non è che devo un attimo farmi venire qualche dubbio? In che senso? Eh c'è il signor Moscone che non... Povero Moscone scusami Stava valutando casa tua Qui invece abbiamo una Camera da letto con tanto di bagno Guarda non c'era me lo sono improvvisato Vabbè bagno così è classico molto bello Sì Cioè tipo se io... Sì il camero poi Se io dormo qui vedo te che fai la... Va bene È perché per una persona sola Ci sono tante sedie E vorrebbero solo una persona Ah ok Quindi cioè tipo mi metto in una sedia Poi parlo da tipo ciao Buddy E vado di là E poi vado di là No Sai con chi parli? Sai con chi parli? Con gli utini Con lui Perché così? Non li sopporta più Utini No Lui no Vabbè poi cosa c'è? E' andato da tequila l'utini Eh eh Ho capito Vabbè Nooo pavruino Scusami è stato un cattivo ragazzo Vabbè poi E basta che vuoi Vabbè poi Devi fare tipo non so una porta segreta che si apriva così Eh non ho mai dato tempo Ti faceva Ti faceva Ti faceva arrivare da lui Guarda Comunque è proprio brutto questo cosa Fammelo vedere un attimo fuori E poi ci salutiamo Ma che bello È brutto ma bello Lascialo in È morto Basta ucciderli poverini Hanno una vita anche loro Guardali Comunque noi ci vediamo nel prossimo video ragazzi Ovviamente votate chi ha vinto Sicuramente ho vinto io Perché il mio è più bello Il signor Moscone vi saluta E sta scappando pure lui Ciao 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 a tutti